Un nuovo tutorial firmato FabioAmbrosi.it, parliamo di After Effects, questo è il corso introduttivo ad After Effects, stiamo parlando dei tasti di scelta rapida da utilizzare quando lavorate con questo software. Dicevamo che sono importanti, quindi ricordateli a memoria, è il mio invito, imparateli bene 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 perché vi saranno tanto 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 comodi. www.fabioambrosi.it, sul sito c'è l'elenco di tutti i tasti di scelta rapida di cui stiamo parlando, oltre chiaramente alle lezioni fatte finora del corso introduttivo ad After Effects c'è questo canale YouTube con la playlist, se volete vedere i video precedenti, e il canale Facebook FabioAmbrosi dove daremo tutte le news riguardanti a questo canale, ai vari tutorial e alle varie iniziative che faremo prossimamente. Cominciamo subito, primi tasti di scelta rapida da imparare quando lavoriamo con le composizioni, la combinazione CTRL-N, CTRL-N ci permette di creare una nuova composizione, semplice no? In After Effects CTRL-N in Premiere era CTRL-N per creare una nuova sequenza, quindi vedete che ci sono delle similitudini tra i due software. Spesso può essere utile lavorare con lo zoom della finestra monitor di anteprima, mi spiego meglio, con questo elenco di percentuali noi possiamo ingrandire a piacimento la previsualizzazione della nostra composizione. Cliccando su adatta noi adattiamo l'ingrandimento, lo zoom, a seconda dello spazio disponibile nella finestra. La seconda voce adatta fino al 100% è identica alla voce adatta, solo che blocca lo zoom fino al massimo al 100%. Chiaramente possiamo andare avanti e ingrandire a nostro piacimento. Abbiamo diversi modi per farlo in maniera rapida senza utilizzare questa funzione qui presente sul pannello di After Effects. Intanto la rotellina del mouse. Cliccando su questa finestra e utilizzando la rotellina del mouse possiamo ingrandire o rimpicciolire. Questa è la più rapida in assoluto. Per ripristinare tutto alla condizione di default, ovvero ad adatta, adatta alla dimensione della finestra, potete utilizzare la combinazione di tasti Alt più freccettina a sinistra. Non la freccettina presente nel tastellino numerico, ma quella presente vicino alla Z. Vedete in sovraimpressione i tasti a cui mi sto riferendo. Alt più freccettina a sinistra ci permette di adattare la finestra, la previsualizzazione della nostra composizione, fino al massimo al 100%. Quindi seleziono questa finestra, Alt più freccettina e torno alla modalità adatta fino al 100%. Se volessi adattare, a prescindere dal 100%, se volessi adattare questa preview alla dimensione dell'area disponibile non vincolandola al 100%, la combinazione è Shift più freccettina a sinistra, come vedete in sovraimpressione. Bene, andiamo avanti. Quando lavorate con After Effects spesso applicate molti effetti, spesso applicate tantissimi keyframe e può diventare pesante riprodurre le vostre composizioni. Spesso si utilizza questa funzione di After Effects che ci permette di diminuire la risoluzione di anteprima, solo di anteprima attenzione, delle nostre composizioni. Di default è spuntata la voce piena, vado a dire che viene riprodotta la timeline con la risoluzione di default. Quindi se è una timeline in 4K riprodurrete la timeline, la composizione in 4K. Ma quello che vi conviene fare è diminuire la risoluzione della metà, o di un terzo, o di un quarto. Quindi cliccando queste quattro voci potete scegliere la risoluzione di anteprima della vostra composizione. Bene, ci sono dei tasti di scelta rapida da utilizzare. I tasti di scelta rapida sono CTRL J, SHIFT CTRL J, SHIFT CTRL ALT J. Sembrano scioglilingua ma vi garantisco che è così. Proviamoli. Intanto cominciamo con CTRL J. CTRL J reimposta la risoluzione alla risoluzione piena. Quindi per esempio stiamo previsualizzando a un terzo, ok? Premo CTRL J ed ecco che torno a previsualizzare a piena risoluzione. Premendo i tasti di scelta rapida SHIFT CTRL J andiamo a previsualizzare ad una risoluzione dimezzata. Ancora SHIFT CTRL ALT più J previsualizziamo a un quarto. In alcuni casi può essere utile visualizzare non l'RGB nel suo insieme ma solo un canale. Per esempio la componente di RED rosso presente nel nostro video, G quindi GREEN verde presente nel nostro video, B oppure BLUE presente nel nostro video. Possiamo decidere quale canale visualizzare utilizzando questo menu che trovate accanto alla risoluzione di cui stavamo parlando prima. Di default c'è attivo l'RGB ma possiamo previsualizzare solo la componente rosa dell'immagine, solo la componente verde, solo la componente blu o solo il canale ALFA. Ok? Ovviamente c'è una combinazione di tasti da utilizzare per fare prima e questo è molto semplice. ALT più 1 per previsualizzare solo il canale RED. ALT più 2 per previsualizzare solo il canale verde, GREEN. ALT più 3 per previsualizzare solo il canale BLUE della nostra anteprima. ALT più 4 per previsualizzare solo il canale ALFA. Ora qui il canale ALFA praticamente non c'è, quindi utilizziamo un'altra composizione. Io qui ho utilizzato una scritta che chiaramente ha una trasparenza. ALT più 4 mi mostra la trasparenza, quindi il canale ALFA. Ripremendo ancora ALT più 4 torniamo a previsualizzare l'RGB nel suo insieme. Mi fermo qui. Questi sono i tasti di scelta rapida per la composizione. Non sono tutti, sono i principali. Nel prossimo video tutorial vedremo come muoverci nel tempo all'interno di una timeline. www.fabioambrosi.it Lì trovate l'elenco con tutte queste combinazioni di cui stiamo parlando, gli articoli di questi tutorial e quant'altro. Condividete questo video se vi è piaciuto con i vostri amici, mettete un like e cercatemi su Facebook. La pagina è Fabio Ambrosi. Grazie, al prossimo video tutorial. Ciao!